Ciao ragazzi, bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui in compagnia di Parla Jacopo Ciao Jacopo E' il tuo secondo account? Permine E' il tuo secondo account questo? No, primo, primo Ok Tutti sono inglesi perchè mentre sono rainbow No, io trovo, diciamo, spesso italiani Se mi vuoi inviare anche l'amicizia, se mi vuoi inviare l'amicizia Te l'ho accettata, te l'ho accettata Tu quanto sei oggi? Quanto sei sulla play oggi? Ah, nulla, ho iniziato verso le sette Ho iniziato a 40 minuti sto Io ho iniziato alle cinque Stai facendo un video? Si, trovati garage Perfetto, uccido tutti No, devo prendere i glass, porca cazzo noia No, i glass fa cacare No, fidati in garage Mi ho sparato 4 laser Si, ma c'è uno che mi ha inviato un messaggio vocale Dicendo così Sono diamante, sono diamante, sono diamante Cioè, proprio così No, veramente c'era un altro italiano No, mo qua Dico un mio amico Cioè, è proprio orgasmato Dicendo che lui è diamante No, non pu... Ok, pensavo che stavi più usciando Occhio da me, vieni Sì, sono stato pure individuato Mi trollo male adesso Si, fai qualcuno Vabbè Boom, bitch Ma non ho trovato l'inferimento Ucciso Qualcuno starà di sicuro sopra Cazzo Ho lasciato una la testa Ho lasciato dopo Ecco Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Arrivo Oh, quasi full team Tac Quante? Quattro? Sì Quasi full team Madonna, mi stanno spammando di messaggi questi amici di me Sì? Oh, ti invito in un party Aspetta Ok Il mio personaggio ti invito in un party Va bene Io d'occo Io d'occo Sì Basta Ciao 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 Serfuge Vai Che fuscia Non attento Che bello è il mio corpo Visto non era Glaz Dokebi No Devi cliccare il testo per Curarti Quello che ho usato per attivare L'abilità devi riutilizzare Madonna ma è una testa di minchia Ricurati Ricurati chi se ne frega degli altri Ok vai Che mira così bravo Bravo Oh l'hai presa in testa Quanta vita c'è Spara 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 zio 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 È crashato È crashato È crashato È crashato È crashato Lo so Stavo dicendo È crashato È crashato È crashato Perché così mi dava che tu stavi in ferimento Però No Poi si è rimasto bloccato con la visuale E lui ti ha preso in testa Ti ha mandato in ferimento ma tu stavi ancora in piedi E ha detto ma che cazzo fa questo Da botola Credo che stia Bodonna A me stanno pure bestemmiando Stanno dicendo porco dio basta Succa Stanno Si stanno bestemmiando di brutto C'è ma proprio Quelle bestemmie che Tua nonna può solo accompagnare E l'unico L'unico L'ultimo rimasto Che cazzo fai Riccari Riccari Eh bravo Il coglione Oh almeno non ce l'ha fatta Eh così Perché io odio le classificate Ma io Dai Dai Sè Un chilo di burro Sè Abbandonate Slate bieme Che cazzo dicono questi Ma si stanno fumando 50 kg di hashish In un solo secondo Questa sera non ti dico no Arroniamoci nel Madonna basta vi stupro la nonna Qui Noob come te Poi vi stanno inviando i messaggi vocali Avete rotto il cazzo Noob 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 Ognabo Ma va a fangulo Non lo so Si stanno drogando di brutto Ma io metto un po' di musica Solo Per No Si però Mi piacciono più le canzoni spagnole Madonna Cristo Inizio a bestemmiare pure io Do che dici Dove stavamo noi Avete rotto il cazzo Veramente A Noela Doc pure Credo No Madò Frate Noi bebe Non penso Zio seguimi Non so Che uno sta qua Se si toglie sta troietta qui Dai andiamoci Il cazzo di Doc Ok Ok Eh già abbiamo fatto tutto noi Quanto smirato è Bravo Hanno rotto il cazzo Si We are the champions Dai eh Vai continua a giocare come squadra Madonna Ma io li stupro tutti A questi Che stanno inviando i messaggi Da Placata Beh ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate un like Alla prossima Aspettate E ma vaffanculo Beh